buongiorno raggi di sole benvenuti in questo nuovo video io sono chiara in arte mi sunshine e amo parlare di tarocchi oracoli nel video di oggi volevo parlare con voi volevo mostrarvi quali sono i mazzi perfetti per questa stagione la nuova stagione che arriva la festività di iule il sostizio d'inverno e quindi i mazzi che io personalmente userò e che secondo me sono adatti ai mesi più freddi il primo mazzo di tarocchi che volevo farvi vedere che secondo me è perfetto per questa stagione già solo il retro mi sembra che parli da solo la ghirlanda con ok sono rose e rossi ma comunque c'è il rosso il verde il pentacolo fatto con gli aghi di pino i bordi dorati insomma secondo me ha tutti quegli elementi che ricordano comunque la la stagione invernale ha delle carte che proprio richiamano il l'inverno ovviamente è un un mazzo legato a tutte le stagioni perché comunque si basa sulla ruota dell'anno però ci sono delle immagini che si rifanno come ad esempio il re agrifoglio qui si rifanno proprio a quella che è la tradizione si pagana ma comunque sono anche molto legate al alcuni a alcuni scorci che secondo me in questo periodo sarà anche il verde la palette di colori utilizzata comunque a me questo questo mazzo mi mi parla molto in questa stagione ve le faccio vedere velocemente è perfetto per tutto l'anno ovviamente perché vedete ci sono tutti però secondo me già solo per quelle due tre carte che sono proprio tipicamente invernali a me risuona molto in questo periodo guardate che bella la luna il dio cornuto tipicamente della tradizione pagana questo è perfetto questo è il primo l'altro mazzo di tarocchi secondo me perfetto per la stagione è ovviamente e per ovvie ragioni il runic tarot ovviamente i colori la palette molto fredda un po' desaturata la tradizione nordica secondo me questo 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 mazzo di tarocchi è perfetto comunque per per il periodo in questo su quale quale su cosa mi baso per per scegliere il mazzo di tarocchi adatto ovviamente mi mi baso sulle energie l'energia di questo periodo ovviamente abbiamo il sostizio d'inverno il giorno più corto e la notte più lunga siamo ancora proprio in in un momento in cui il luglio e la luce si si alternano o meglio c'è questa la luce inizia a rinascere perché il 21 dal 21 di dicembre poi anche se in maniera impercettibile le giornate vanno ad allungarsi quindi comunque è il ritorno della luce ma nonostante il ritorno della luce noi comunque affrontiamo dei mesi freddi in cui ancora saremo portati a stare un po più ritirati in noi stessi a fare comunque ancora quel lavoro che abbiamo iniziato con sewing con novembre con comunque quel lavoro introspettivo perché ancora dobbiamo far emergere quella vitalità che poi esploderà con con l'arrivo della primavera quindi secondo me questo mazzo ovviamente legato alle terre del nord rispecchia molto questo aspetto che che io sento molto che per me è molto forte proprio perché appunto in questo momento viviamo l'alternarsi del si sentiamo su di noi questo alternarsi di buio e luce secondo me io non sono molto amante dei tarocchi in bianco e nero ma questo è bellissimo per di più con questi dettagli secondo me è perfetto per questo momento questo è un mazzo di tarocchi molto particolare che usa sia il sistema rider weight che il marsigliese non l'ho ancora mai usato il che è un'ottima adoro questa carta è un'ottima scusa per comunque prendere confidenza anche con quei mazzi che magari non ho mai ancora utilizzato perché purtroppo capita anche questo avere tanti mazzi a volte capita che qualcuno sfuga di certo questo non è un mazzo che mi sentirei di usare a luglio ecco per me è parlo per me ovviamente per le mie energie che sono molto comunque legata allo scorrere del ciclo delle stagioni ecco questo è un momento in cui mi sento a mio agio nell'utilizzare questo questo mazzo con questi tre colori che secondo me si abbinano bene sia alla stagione sia al periodo di festività che andiamo a vivere ma anche e soprattutto proprio per quell'equilibrio tra luce e buio quel contrasto più che equilibrio quel contrasto tra buio e luce che andiamo a vivere in questo momento mazzo che secondo me è perfetto per il periodo di festività che andremo a vivere a breve maggiormente per la presenza dell'oro del rosso dei colori così vividi io trovo che sia perfetto anche l'abbondanza di dettagli che si trovano ovviamente lo stile art nouveau è molto elegante molto ricco di particolari in questo in questo periodo di festa in cui è pieno di luce luce lucini luminarie decorazioni come potete vedere secondo me questo rispecchia molto le energie di questo momento passata alla fase natalizia io direi che questo mazzo si presta particolarmente per per i mesi freddi che inevitabilmente già sono arrivati ma che si intensifieranno ancora di più questo è un mazzo sempre stile liberty art nouveau a questi particolari in oro che ovviamente richiamano le festività del periodo ma il motivo per cui secondo me sono perfetti per i mesi invernali è la freddezza dell'arte è una l'arte è molto fredda molto essenziale sintetica nella sua comunque pienezza di particolari perché non possiamo dire che è proprio un uno stile di disegno minimal però questa palette così a volte pastello lo sfondo bianco colori comunque tendenti al freddo anche un po' desaturato secondo me è perfetto per i mesi invernali cioè io questo mazzo secondo me è proprio c'è sopra c'è scritto gennaio febbraio secondo me bellissima l'alta sacerdotessa secondo me si presta benissimo appunto come dicevo poco fa ai mesi freddi sia anche al periodo natalizio ma secondo me anche per i periodi freddi secondo me anche per il prossimo sabba in bulk è perfetto perché tutto questo candore questo bianco mi ricorda da proprio la sensazione della neve della neve fresca dell'atmosfera ovattata del silenzio non lo so questo è proprio quello che mi trasmette questo mazzo faccio uno strappo alla regola perché gli oracoli ve li faccio vedere dopo insieme a questo mazzo ovviamente userò il suo oracolo abbinato il dreamscape oracle come vedete anche qui riprende precisamente lo stile di disegno i colori la palette quindi per lo stesso motivo motivo di che ho detto finora io questi in questi due mazzi li vedo perfetti per per il periodo invernale mi ricorda anche le notti con con queste stelline proprio qui la neve che cade la sua energia fredda e maschile soprattutto perché ogni volta già dalla prima volta che ho preso in mano questo mazzo appena mi è arrivato ho sentito una forte energia maschile effettivamente l'autore è un uomo quindi la sua energia è molto presente in queste carte e secondo me è perfetto visto che comunque con il solstizio andiamo a vedere insomma c'è il re l'avvento del re agrifoglio quindi comunque c'è un'energia maschile che ritorna dalla superficie no che comunque nasce prima poi di arrivare al suo culmine ritorna questa energia solare che è legata appunto all'energia maschile secondo me queste questi due mazzi meravigliosi sono perfetti per i mesi invernali adesso passiamo agli oracoli dopo la carrellata di tarocchi che vi ho fatto vedere e sicuramente non sono neanche tutti passiamo appunto a vedere gli oracoli io penso che dopo il successo di del season of the witch so in oracle che ha avuto un successo planetario si può dire perché veramente la diffusione che ha avuto quel quel mazzo di oracoli secondo me la sua popolarità non tutti i mazzi anche alcuni validissimi purtroppo non raggiungono sono sicura che questo lo conoscete al pari del suo compagno halloweeniano quindi il season of the witch yule oracle ovviamente è nel suo pieno periodo di utilizzo io non lo uso per i mesi invernali o meglio me lo porto sì più o meno fino a gennaio in ultrato ma non non vado oltre perché secondo me la le energie di questo mazzo sono molto legate alle festività natalizie molto molto c'è un impronta natalizia molto forte in questo in questo mazzo se vi interessa vedere la mia recensione l'ho scritta vi lascio sotto il link del blog dell'articolo del blog perché diciamo che è stata per me una 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 delle uno degli articoli più controversi perché nonostante mi piaccia moltissimo questo mazzo con i suoi elementi proprio l'atmosfera che si respira ci sono delle cose che non mi sono piaciute come scelta dell'autrice però è inevitabile che insomma se non parla di inverno questo questo mazzo non so quale ecco una delle controversie più grandi per me è stata questa carta e quindi ovviamente vedete parla del solstizio perché yule appunto è la festività pagana che celebra il solstizio d'inverno e riporta tutti gli elementi delle festività che comunque noi celebriamo i pranzi le scende con le nostre famiglie le abbuffate i parenti ci sono elementi che riportano sia il proprio il celebrare a livello spirituale perché mi hanno da pensare vedendo queste persone in cerchio intorno a un falò proprio la celebrazione da congrega comunque la sorellanza il festeggiare la celebrazione di questo momento molto importante ci sono simboli come appunto gli animali gli animali totemici comunque gli animali simbolo di questo periodo che hanno la loro valenza spirituale come guida e poi ci sono ovviamente tutte anche queste ad esempio ricordano molto quelle se voi vedete nei paesi nordici come viene celebrata la festa di santa lucia il 13 di dicembre che è comunque una figura molto antica che viene ripresa è abitudine dalla dalla tradizione cristiana di prendere le festività pagane e poi le ha ritrasformate riportate le ha adattate alla nuova religione ovviamente parliamo di tempi antichissimi appunto troviamo simboli legati alla tradizione antica e poi gli ornamenti più moderni come le palline dell'albero di natale il centro tavola con le candele il cibo ancora insomma è sicuro che questo mazzo è perfetto per questo momento assolutamente per le festività natalizie mi sarebbe piaciuto che ci fosse un po' più di paganesimo e meno meno tradizione che comunque strizza un po' all'occhio alla tradizione cristiana come in questo caso babbo natale ci sono quello che critico e ripeto nel mio articolo lo spiego molto meglio comunque strizza l'occhio molto alla tradizione cristiana quando in realtà questa figura poteva essere chiamata in molti altri modi che rispettasse la festività di iule che ha le sue origini antichissime e quindi poteva comunque rispettare un po' di più quello che è il tema pagano perché se no non si chiamava seasons of the witch ma potevamo chiamarlo il mazzo del natale cristiano secondo me è un po' decontestualizzato un po' forzato su alcuni elementi questo non toglie che sia un mazzo bellissimo valido che scalda il cuore che fa proprio il suo dovere cioè accende quella speranza che si inizia un a sentire no in questo periodo gli addobbi sto girando questo video l'otto di dicembre quindi sapete che tradizionalmente il giorno in cui si si addobba l'albero di natale si tirano fuori tutte le decorazioni ecco questo sicuramente è un mazzo che parla di questo e quindi è un balsamo per il cuore per l'anima e per questo periodo è veramente perfetto un altro mazzo di oracoli che volevo farvi vedere diciamo che ci sono alcuni mazzi che mi sto portando ancora dietro come questo da dai mesi precedenti legati molto a sewing al lavoro al lavoro sull'ombra e questo non è da meno però mi sembrava adatto anche per per il periodo che che sta arrivando quindi per i mesi invernali per le festività per il contrasto di chiaro scuro che ci sono all'interno di queste carte cioè parla proprio di buio e luce ogni carta ha un suo contrasto molto forte di luci e ombre questo a parte bellissimo c'è la la lince la lince delle nevi questo c'è più invernale di questa carta non so quale possa essere questo oracolo comunque parla molto in profondità tutto quello che si che si respira solo guardando queste carte arriva dritto a noi parla benissimo alla nostra anima secondo me è comunque degli elementi che ricordano molto il mese invernale perciò secondo me è perfetto per questo periodo appunto che ancora nonostante l'arrivo della luce la nasce della luce noi ancora siamo un po dentro e fuori questa luce si accende dentro di noi ma essendo una fiammella ancora flebile proprio sotto ancora le superficie che appena accenna a nascere anche noi abbiamo sì questa speranza questo nuovo questa nuova vita che inizia a pervaderci però ancora siamo siamo ancora nelle profondità di noi stessi come il viaggio che avevamo fatto a saw in non siamo scesi nelle profondità del della nostra persona della nostra mente della nostra proprio del nostro mondo interiore ecco secondo me questo è un altro mazzo che benissimo alterna questi due aspetti che ancora noi ci ci portiamo dietro o questo è un oracolo che mi è stato regalato da pochissimo me l'ha regalato la mamma di una mia amica perché gli ho fatto un l'ho fatto un piccolo per me grande evidentemente per lei favore e la ringrazio tantissimo perché non c'era assolutamente bisogno di farmi questo regalo ma lo amo con tutta me stessa ecco l'ho usato non moltissimo ma è fantastico anche qui stesso motivo monocolore possiamo dire o comunque un monocromatico non ci sono sfumature sembra un po' quei disegni fatti con il carboncino guardate questa carta bellissima che sembra proprio il film anastasia no proprio il film riprende lei anche come vestita il film il cartone animato con la città sullo sfondo quando lei scappa dall'orfanotrofio e praticamente nella foresta con la neve che si perde che comunque qui qui già la lanterna ci dà appunto quella luce di speranza di trovare la nostra strada no la nostra strada di scoprire noi stessi perché lasciamo qualcosa di conosciuto per poi trovare noi stessi e secondo me questa questo mazzo parla proprio di di inverno non a caso abbiamo un una bellissima benedizione di iule appunto che come vedete proprio lo sfondo no c'è una renna l'albero di natale con le lucine le decorazioni questo è un veramente un mazzo che secondo me anche in questo caso parla di di noi stessi di interiorità di un viaggio un viaggio interiore appunto sempre legato all'ombra sempre sempre sì che ci fa scoprire parti nascoste di noi però quelle volte che l'ho usato è dolcissimo ha una speranza che comunque ti dà proprio come l'energia di di queste festività no sì è vero fuori fuori è freddo ma dentro di noi all'interno delle nostre case portiamo il calore familiare il calore delle feste la gioia del delle luci degli addobbi ieri proprio leggevo un un articolo bellissimo in un sito che mi ha fatto riflettere su questa cosa il vero inverno comincia dopo il natale e questo è verissimo dopo il natale dove noi comunque esaltiamo questa nascita di questa lucina dove noi proprio celebramo la nascita del sole noi portiamo il calore e la luce all'interno delle nostre case però poi quando le le festività natalizie finiscono e noi togliamo le addobbi e spogliamo la casa di quelli che sono gli addobbi li facciamo i conti con il vero inverno cioè il freddo proprio la morte della natura che si si sta preparando a rinascere ma ancora non è pronta a farlo e quindi anche noi ugualmente siamo dopo quel momento di vita e di celebrazione ritorniamo un pochino nel nostro nel nostro mondo interiore nel nostro rifugio con al sicuro nel nostro caso ma con più freddezza e li sentiamo veramente l'inverno questo è un mazzo che mi trasmette queste sensazioni ma scusate stavo leggendo basilisa che anche qui lei fa parte della leggenda di baba yaga delle leggende slave se non sbaglio comunque della tutta la tradizione dell'est legata a baba yaga e a basilisa quindi ecco comunque anche qui c'è riferimenti a quelle tradizioni nordiche che che sicuramente avevano un rapporto con l'inverno molto più intenso rispetto a quello che può essere il nostro eccoci qui con l'ultimo mazzo di oracoli secondo me perfetto per questo periodo allora questo è stato un regalo che mi è stato fatto l'anno scorso per le festività quindi proprio in questo in questo periodo è natalizio a dicembre l'anno scorso da mio marito e ho adorato subito questo mazzo è talmente grande talmente potente il messaggio che che manda che non è secondo me almeno per la mia percezione e il mio collegamento in questo mazzo non è certo un mazzo che si usa quotidianamente è un mazzo sulle benedizioni nella tradizione pagana spesso si benedice la persona che incontriamo solitamente si saluta si saluta dicendo che tu sia benedetto comunque è una cosa molto sentita soprattutto nella tradizione celtica e questo è un mazzo che ogni carta è una benedizione le immagini secondo me sono di una bellezza che veramente toglie il fiato e ha molti richiami come sarà un po lo stile artistico alcune atmosfere ovviamente come queste con la neve i pini l'agrifoglio un bellissimo dio della foresta che secondo me sono perfetti per questo periodo dell'anno è un mazzo che può essere utilizzato tutto l'anno perché io lo uso particolarmente in questo momento perché nelle stese delle letture che faccio per per le persone che mi chiedono di fargli delle stese legate proprio al periodo sulla crescita personale per il nuovo anno io gli prendo una benedizione quindi una benedizione per il nuovo anno però questo secondo me è un mazzo può essere usato veramente tipo una volta al mese per avere la benedizione del mese che stiamo per vivere è veramente potente bellissimo ovviamente tutto molto legato a riferimenti alla cultura celtica però secondo me è perfetto per questo momento un po anche perché appunto le benedizioni sono un dono che noi facciamo a noi stessi agli altri no e quindi rispecchiano molto quello che è lo spirito del del periodo di questa luce di questa di questo amore di questi legami che si rinsaltano che viviamo in queste giornate io ho finito la mia carrellata di di mazzi di tarocchi oracoli perfetti per la stagione fredda invernale e la festività di jule io spero di avervi fatto cosa gradita se volete scrivermi qua sotto nei commenti quali sono i mazzi che invece per voi proprio rispecchiano queste energie del periodo se vi interessa qualche mazzo specifico che vi ho fatto vedere se volete delle informazioni in più insomma tutto quello che volete scrivetemi nei commenti sarò felicissima di rispondervi se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se volete sostenere il mio lavoro il mio piccolo lavoro che in realtà è una passione che faccio con tanto amore e cliccate mi piace condividete e noi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio ciao